Amici, mi sono spresi tutti i video condivisi da YouTube sulla mia pagina Facebook. Mi sapete dare una spiegazione? 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 Amici i video su Pergiore è uno di questo sennore. La musica variava anche la postura. forse è per questo che mi hanno tolto dalla pagina fin non lo so sono assunzato comunque ho provato a ricondividere mi dice che l'app non è disponibile di rivolgermi a un amministratore fino ad oggi sono sempre disponibili e non capisco perché l'app per condividere dicono non lo so io se avete notizie postatele